benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video è un pezzo che non li faccio quindi è un video tag è un video tag che si chiama io lo guardo qui le domande del mio huawei nell'altro telefono questo video tag si chiama tutti i colori di youtube è stato odiato da azzutube sarebbe azzurra e il così di antonella e dopo sotto l'infobox vi lascerò i canali di azzutube e così di antonella comunque però l'ho visto sul canale di crafting mary ciao tesoro un bacione grandissimo e allora cominciamo subito che cosa ne pensi dei giveaway ne hai mai fatto uno allora cosa ne penso allora a me mi piacciono veramente tanto scusate non mi fa le due lucine non lo so perché ho due luci vedete degli occhi ma allora stavo dicendo che cosa ne penso di giveaway allora a me mi piacciono la fine anche un modo comunque per conoscersi meglio nel senso che comunque facendo un giveaway te ovviamente metti delle regole no quindi dici devi essere iscritto al mio canale devi commentare eccetera ovviamente ci sono delle regoline da seguire e che così per esempio c'è tanti che dicono anche condividete il mio video così anche per farsi un po più anche di pubblicità comunque una cosa normale no voi fate un favore alla ragazza che fa il giveaway e lei in cambio vi regala un qualcosino ovviamente a una persona come può essere anche due o tre persone dipende quanti dopo regali una prende insomma ecco come lo gestisce il suo giveaway e ne ho fatto uno sì che ho fatto il giveaway quello lì di 500 iscritti dove avevo lasciato le cose per quanto riguardava le unghie qualche sticker qualche cosina di trucco erano otto cosine e sì e poi quando arriverò a mille iscritti volevo fare un giveaway molto più grande quindi con un bel regalone o uno unico ma bello grande o se no tanti cosine ma piccole non lo so ancora devo vedere però comunque ancora me li iscritti a voglia passiamo alla seconda domanda hai mai avuto commento infelice se sì come hai reagito come hai reagito sì non ho ricevuti però adesso quell'altro non me ne ricordo me ne ricordo ma non ne ho ricevuto tanti comunque ho fatto caso che tanti tu per proprio di massacrarne a manetta io degli eter solo cioè non ho ricevuti ma pochissimi uno che mi ha detto ha invece di stare qui vai a lavorare e dopo sotto il suo scritto è anche tu va lavorata dopo le teste qui come mi hai fatto a commenta perché se perde tempo su youtube guarda i video di altri rompi le scatole quindi vai lavorare anche te che mi pare che pure te non vai a lavorare c'è l'ugola di nel senso o lei non mi ricorda sar maschio al fine pare che era un maschio che mi ha detto aspetta non è che mi ha detto proprio vai a lavorare no mi ha detto invece di stare su youtube a trovati un lavoro vero un lavoro serio una roba del genere comunque con l'altro è buono ma io ricordo terza domanda che cosa ne pensi delle nuove restrizioni di youtube riguardo le monetizzazioni avere almeno 1000 iscritti e 4000 ore di video visualizzate nell'ultimo anno allora da una parte per quanto riguarda vabbè in parte che non sono proprio d'accordo insomma con questa cosa almeno per noi canali piccoli una mano ce la potete aprire da comunque vabbè manco questo allora per quanto riguarda di 1000 iscritti già lo posso capire vabbè c'è 1000 iscritti vabbè allora fa la monetizzazione di tutto però le 4000 ore del cacchio dai no è troppo come cacchio fai è impossibile boh e quindi su c'è sulle 4000 ore di video visualizzate nell'ultimo anno c'è boh non questa qui non la capisco sinceramente non mi piace sta cosa non sono tanto d'accordo per quanto riguarda i 1000 iscritti sì alla fine però comunque generale sì ci sono rimasta male perché comunque mi sono fatta così per comunque per sta monetizzazione che all'inizio ci capivo niente e poi grazie ad un altro ragazzo che comunque che lui si chiama francesco bocco francesco bosco scusami tesoro della fama della family youtube family mi ha aiutato tanto per quanto riguarda la monetizzazione come fare tutto ci sono stati due giorni due giorni interi ma non ero quasi per fare tutte queste cose e quindi adesso che me leva tutto il monetizzazione tutto dopo che mi sono fatta eh per niente insomma ho fatto lavoro per niente però vabbè però ce l'ho lo stesso solo che adesso ovviamente l'ha in elevata a meno dopo sperando che non dovrò ricominciare da capi speriamo di no però comunque l'insieme di queste cose vado fastidio ovvio c'ho la lì di qua quarta domanda quali sono i video che non riesci proprio a sopportare oddio sinceramente non non mi pare che c'è qualche video da me viene in mente sinceramente non mi pare che c'è qualche video che non sopporto proprio comunque scusate per la luce perché ovviamente come sapete sono in camera mia e dove qui c'ho la scrivania dove faccio le unghie però io qua sto storta si sta spostando scusatemi ecco dove qua c'ho faccio la postazione unghie sì c'ho la serrana un po' abbassata a metà però c'è il tempo bruttissimo piove quindi scusate se vedete un po' giallo insomma non vedete tanto bene e vi stavo dicendo eh boh quali sono i video che non riesci proprio a sopportare forse non sopporto quei video che mettono i i titoli quelli di bleak bite o com'è che se le dice che lady vai via da qui porca miseria e che questa gira intorno a 6 mi fa passivo i click bite mi pare che si chiama che ti mettono un titolo e poi in te il video non è cioè non non fanno niente sul titolo che hanno messo praticamente cosa so io adesso scrivo vlog in piscina invece vedete che faccio un tag per di oppure faccio un vlog ma non sto in piscina la piscina non la vedete per niente cioè quelli video lì non li sopporto perché te fa credente è una roba poi non è come quelle tante sono incinta poi non è vero niente per dirvi per fare le visualizzazioni quello non mi piace con i video così insomma quinta domanda hai mai girato video vlog? ti piacciono? sì ne ho girati tanti di video vlog come avete visto anche in passato se scorrete anche dietro dei video poi l'ho fatto un ultimamente che ho consolato a cena fuori a Lecchia con con Roberto con il mio ragazzo soltanto che cos'è che volevo dire che mi è sfuggito? ah no che comunque mi piacciono tanto i video vlog se fossi per me li farei sempre perché mi piace un bel po' soltanto ecco deve capitare un qualcosa un po' di diverso insomma del solito a me sapre stesse robe monotele non mi piace poi sesta domanda cosa ne pensi di tutti i youtubers che hanno un'ansia spasmodica di far crescere il loro canale ma io non penso niente ognuno è fatto a modo suo soltanto che perché non è che giudico gli altri poi non mi permetterò mai di giudicare una persona che non conosco non penso niente penso soltanto deve stare un po' più tranquilli nel senso comunque deve andare a distanza deve far crescere subito il canale perché c'era gente per arrivare a milioni di iscritti ci hanno messo una vita per dire come quelli che invece te ne hanno e già sono arrivati 2 milioni di iscritti per dirvi eh sta tranquilli che comunque non è che se more voglio dire non è una roba che te che te fa campare c'è la fine quindi con calma poi piano piano facendo i video portando ecco video che può piacere alle persone a loro iscritti eccetera eccetera e piano piano si cresce ci vuole pazzenza come del resto su tutto settima domanda non si può avere tutto subito insomma ecco allora settima domanda cosa ne pensi dei youtubers che in ogni loro video ti incitano all'iscrizione al loro canale al mettere il pollice in su ed attivare le notifiche tramite la campanella non li sopporto tanto nel senso la verità perché vi ripeto io questo l'ho detto anche un pezzo non so se l'avevo fatto un video due anni fa un anno fa che dicevo che avete rotto perché nel senso io non pare che così è un obbligo che io sono obbligata ma perché te ti sei iscritto al mio canale e ti dice ciao Greta bel canale bel video cazzi ammazzi dopo ti fa ha detto io sono iscritta al tuo canale e ti vado a capanella fai la stessa cosa con me ti iscrivi metti capanella commenta like condivide quanti cazzi vuoi no vabbè ma io lo faccio anche non c'è problema è bello darsi una mano con altro però che vieni lì put in bianco così manco te conosco dammi almeno il tempo anche perché comunque prima vedo il canale poi vedo se mi piace mi iscrivo se no no non è mo perché te hai detto iscritta al mio canale te hai dato la campanella mi hai commentato mi hai condiviso mi hai messo il piaccio hai fatto questo hai fatto quello hai fatto quell'altro io sono obbligata a iscrivermi a fare le stesse cose che ti hai fatto con il mio canale no non funziona così se te lo fai perché ti piace lo fai col cuore non è che lo fai solo per convenienza perché vuoi che poi io mi iscrivo al canale tuo e te sto dietro come un cagnolino non mi piace a me queste cose non mi piace quindi queste non le sopporto più di tanto quando a me la gente mi iscrive guarda il canale mi sono iscritto ti fa piacere iscriverti al mio è già un po' più diverso no io però vado guarda prima vado a vedere il canale se mi piace mi iscrivo se no no cioè non perché te mi sei iscritto al canale mio e io adesso obbligato che al canale tuo c'è iscritto c'è iscritto anche una parte sta roba ottava domanda è l'ultima sì quali video trovi decisamente ridicoli boh non lo so sinceramente per adesso non mi è mai capitato di vedere video ridicoli sinceramente quindi non boh no non lo so sinceramente quali video trovi decisamente ridicoli boh forse quelli senza senso che durano tipo due minuti che non fa vedere cose che non c'è senso non lo so boh mi è capitati solo che adesso un attimo non è vero che l'avevo visti ma è capitati però adesso non mi ricordo precisamente cos'è che fa vedere insomma ecco andiamo lì allora scusatemi allora eravamo arrivati all'ottava domanda che dice quali video trovi decisamente ridicoli ne avevo detto allora le domande sono finite la nonna vabbè dice tag a 5 persone allora io qua l'ho scritto sono andata a chiudere che non è una scemota ecco allora io taggo Lady Vampira facile scusatemi facile e veloce opinioni Emanuela Emma Nail Style 3 Cristina Russo 4 e M.recensioni 5 tag a tutti e 5 a voi ragazzi spero che il video lo farete e niente io vi saluto spero che questo video tag vi sia piaciuto se volete sotto il video commentatemi comunque di Facebook vi metterò i due canali di chi ha ideato questo tag così se volete andate a scrivere loro i canali e c'è tra fate come volete e niente io vi saluto vi mando un grosso bacio ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao